Leadership, coesione e spirito di gruppo, questo è il tema della lezione magistralis tenuta dal neodottore in scienze motorie Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale di Calcio, laurea ad honoris conseguita oggi conferitagli dall'Università Carlo Bo di Urbino qui al Teatro Sanzio della capitale del Monte Feltro. Mi fa piacere essere qua all'Università, diciamo che ci fa piacere anche essere considerati un po' gli apripista di questa stagione sportiva e ci fa molto piacere, insomma, questo sì. Veniamo da questa impresa straordinaria che solo con la coesione, con l'amicizia, con la voglia di impegnarsi, con la leadership non solo dell'alleatore ma anche dei giocatori, siamo riusciti a centrare e quindi io credo che ci sia alla base di tutto questo, ci sia sicuramente una grande passione, una grande voglia di impegnarsi sempre, anche quando le cose sembrano difficili e impossibili da raggiungere. Con il magnifico retore dell'Università Carlo Bo di Urbino, Giorgio Calcagnini, gongolante seppur dietro la mascherina per questa laurea e honoris causa del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Siamo molto contenti perché abbiamo premato una persona che ha manifestato una bellissima professionalità, un rapporto umano di rilievo e queste sue qualità si sono anche poi riversate in questo gruppo che è la squadra nazionale che ha portato ai risultati che sappiamo. Ed è questo, pensiamo, che sia di esempio anche per i nostri studenti perché i risultati si ottengono con il lavoro. Io ho sicuramente apprezzato molto la scelta della nostra università che con questa laurea dell'onore ha veramente centrato la persona giusta, nel senso che al di là dei risultati degli ultimi tempi con la Nazionale, ma sicuramente è un uomo che ha dimostrato nella sua vita di saper fare sia da giocatore sia da allenatore e queste sono le persone, le figure che tengono alte il nome del nostro paese. Quindi una scelta giusta, al di là di tutto, è veramente apprezzata sicuramente anche dalla nostra città, oltre che dall'università che ha fatto questa scelta già, come ha detto il Rettore, fatta non in tempi non sospetti, già da un po' di tempo, da qualche anno che si voleva dare questa laurea. Poi la pandemia ha slittato tutto e la fortuna ha voluto che abbiamo colto il momento migliore. Poi la pandemia ha slittato tutto e la fortuna ha voluto che abbiamo colto il nostro paese.